Alessandro Panza, mentre il nuovo questore Antonio Puglisi ci si avverrà, così come previsto dalla legge del concorso qualificato delle Forze Armate per quanto riguarda le situazioni di straordinaria necessità ed urgenza. Sarà anche assicurato un contributo su base volontaria limitato nelle quantità e nel tempo da parte di altre regioni italiane. Il governo nominerà un commissario liquidatore per porre fino ai 14 anni di fase. La regione campagna sarà dotata di almeno tre termovalorizzatori o gasificatori a Cerra, Santa Maria La Fossa e Salerno. Il generale di divisione Franco Giannini. Essi subentrano all'attuale commissario. Ridare al Paese e all'Italia una completa autosufficienza in termini di smaltimento, evitando il ricorso all'esportazione onerosa dei rifiuti. Grazie. Grazie.